Ciao a tutti e bentornati. Nuova recensione di un disco classico, ormai, per me rimane uno dei dischi, per me rimane un disco che ha un suono recente e contemporaneo, ma la verità è che il disco ha circa 30 anni e quindi ovviamente parliamo di un disco classico. È quello che secondo me è il miglior lavoro di una delle mie artiste preferite, di una delle mie cantautrici preferite, cioè Susan Vega. Sto parlando di 99.9 Fahrenheit, uscito nel 1992, e che secondo me è un disco che ha tanti motivi di interesse. Piccola premessa, chiariamo qual è la situazione. Susan Vega è una delle mie cantanti preferite in assoluto, sono membro del suo fan club, quindi non mi sentirete parlare male di lei. Solo per chiarire questo, il disco che ho, la copia del disco che ho, come potete vedere, è autografata, per darvi un'idea del tipo di rapporto che ho con la sua musica. Dicevo, il disco è interessante per diversi motivi, perché probabilmente è uno di quei dischi che secondo me rappresentano al meglio un certo tipo di musica degli anni 90. C'è bisogno di fare una premessa abbastanza larga, da questo punto di vista, per spiegarlo. Gli anni 90 secondo me rappresentano un periodo di transizione, nel senso che basta pensare all'idea di Hobsbawm, che il 900 è un secolo breve che comincia con la Prima Guerra Mondiale e che finisce nel periodo tra l'89 e il 91, quindi con lo scioglimento del blocco sovietico, con la caduta del muro di Berlino, e poi fino alla fine del 91, la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Si può pensare, e questo l'ho detto più volte sia qui sul canale che nel libro sugli U2, che il periodo tra il 91 e il 2001, quando di fatto comincia il XXI secolo, è un periodo di, sostanzialmente, di interregno, di incertezza dal punto di vista politico-economico, e non solo, anche, e che è la parte che ci interessa di più, dal punto di vista culturale e artistico, in particolare nella musica. È un periodo in cui quello che succede è che tantissimi artisti, tantissimi cantanti, gruppi, cantautori, eccetera, sperimentano cose che non avevano mai fatto prima e ibridano i generi. Uno dei generi, un paio dei generi più tipici musicali degli anni 90 sono quelli, nella prima metà è quello che si chiama crossover, cioè questo incrocio tra rock più o meno pesante e musica dance o hip-hop, eccetera. Un esempio potrebbe essere Blood Sugar, Sex Magic, dei Red Hot Chili Peppers, o anche dischi proprio come quelli che erano, mi pare che erano Alien Hunt Farm e gente di questo genere, e dalla metà in poi degli anni 90 in realtà si diffonde un approccio alla musica dance che è molto simile al rock, il Big Beat e cose di questo genere, autori come Prodigy, Chemical Brothers, Fat Boy Slim, eccetera, sostanzialmente fanno musica dance e musica elettronica, ma lo fanno con un approccio molto simile a quello dei gruppi rock. Anche gruppi tendenzialmente mainstream cominciano a fare cose diverse, gli U2 con Actun Baby, eccetera, c'è scritto un libro sopra, trovate il link qui in descrizione se volete maggiori informazioni. I Metallica escono dalla loro nicchia e diventano sostanzialmente il principale gruppo hard rock, però mainstream, non sono più patrimonio di un piccolo gruppo di metallari duri e puri, ma vendono 30 milioni di copie del Black Album e quindi sostanzialmente diventano un gruppo mainstream. I REM cambiano, fanno due dischi quasi acustici, uno praticamente completamente acustico, uno quasi, cioè Automatic for the People e Out of Time prima, ma poi cambiano completamente il loro stile, cominciano ad attaccare le chitarre super distorte, quindi Monster, New Adventure, Cine Hi-Fi, eccetera. E Susan Vega non è da meno. Susan Vega inizia la sua carriera artistica nei primi anni Ottanta, il primo album esce nel 1984, il secondo, Solid Standing, che ha un enorme successo grazie a Tom Steiner e a Luca, è del 1987, e nel 1990 esce Days of Open Hand, in cui comincia già a fare i primi passi verso qualche cosa di diverso rispetto all'inizio. Lei nasce come folk singer del Greenwich Village, sempre vestita di nero, solo lei è la chitarra acustica, almeno nei concerti dal vivo, con arrangiamenti comunque vagamente pop. Nell'album Luca ha un enorme successo, grazie a un arrangiamento che oggi suona decisamente datato, ma che negli anni Ottanta suona perfettamente nello spirito dei tempi. È una canzone che ha un suono profondamente pop, anche se poi l'argomento non è esattamente pop, probabilmente a Luca dedicherò una puntata della serie sulle canzoni fraintese. Dicevo, già nel 90, con Days of Open Hand, che ha pochissimo successo di pubblico, Susan Vega comincia a cambiare un po' il suo approccio, anche se tutto sommato il suono è abbastanza simile a quello dei dischi precedenti. Ma due anni dopo, grazie all'incontro con Mitchell Froome, produttore che diventerà poi suo marito e padre di sua figlia Ruby, cambia completamente approccio. E già si vede dalla copertina del disco, che invece di avere una sua foto tendenzialmente seria, in bianco e nero, virata sui toni del seppia, come era nei dischi precedenti, e ha una foto molto colorata con la sua faccia in bianco e nero, ma i suoi capelli rossi che diventano una specie di fiamme, grazie a un ritocco fotografico. E scopre in tutto questo tutta un'altra serie di suoni elettronici, funk, danzerecci, che cambiano del tutto le sue canzoni. Ripeto, l'approccio originale normalmente è quello di una ragazza con la sua chitarra acustica che suona le sue piccole canzoni. Qui le cose sono un po' diverse, perché appunto è un disco molto prodotto e molto suonato, ha una band intera che l'accompagnerà nei concerti e che in parte è la stessa con cui va in giro tuttora a 30 anni di distanza, e scopre un suono elettronico, e insieme a questo suono elettronico anche un look completamente diverso. Scopre per certi versi una sorta anche di sensualità che si svilupperà ancora di più nel disco successivo che si chiamano Objects of Desire, sia nelle foto, sia anche nel tipo di suoni del disco. Questo è un disco più ruvido dal punto di vista dei suoni, però è un disco più sanguigno, meno freddo. E ci sono tutta una serie di canzoni che sono assolutamente clamorose. Le prime 3-4 canzoni del disco sono assolutamente perfette. Rock in this pocket, che i francesi avevano interpretato come una metafora sessuale, in realtà è un racconto sostanzialmente biblico, perché è la storia di Davide, che sostanzialmente dice a Golia stai attento perché io qui con la roccia, con il sasso che ho qui nella mia tasca, sono quello che ti farà cadere. Comincia con un suono di chitarra molto strano, soprattutto rispetto a tutta la carriera precedente di Susan Vega. Per poi arrivare a quella che secondo me è la più bella canzone di Susan Vega in assoluto, o almeno quella a cui più sono legato, che si chiama Blood Makes Noise, che è sostanzialmente un pezzo dance in cui la chitarra è elettrica e distorta. L'elemento musicale principale che c'è è il basso e una batteria che suona assolutamente dance. Ricordo anni fa, quando avevo fatto una compilation di canzoni che mi piacevano, l'avevo accostata a Give It Away dei Redocci di Peppers, perché il basso, tutto sommato, ha lo stesso tipo di approccio. Poi c'è la splendida ballata in Liverpool dedicata a un suo ex fidanzato appunto di Liverpool, che però ha un suono aperto, sinfonico e appunto con tendenze industriali, come anche la title track, che è la quarta traccia, che si chiama 99.949 degrees, che è assolutamente un trionfo di suoni elettronici, suoni industriali e tutte cose che fino a quel momento Susan Vega non aveva mai fatto. Proprio per questo 99.949 degrees rappresenta perfettamente, secondo me, il tipo di approccio musicale agli anni 90, perché una cantante con le radici nel folk, che si può tornare indietro a Johnny Mitchell, a Dylan addirittura, pubblica un disco che è completamente diverso da quello che ha fatto fino a quel momento e che si allontana anche proprio dall'approccio, dallo stile di scrittura delle canzoni folk, voce chitarra acustica che aveva scritto fino a quel momento, per abbracciare le novità tecnologiche e sonore che ci sono in quel momento. Ripeto, è uno dei dischi della mia vita in assoluto e credo che se gli date una possibilità quantomeno potrebbe sorprendervi. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video. Vi ricordo che qui sotto trovate i link per ascoltare l'album di cui ho parlato. Vi metto anche il link alla puntata del podcast dedicata a Tom's Diner, che è la prima puntata del podcast in assoluto, per sapere qualche altra cosa su Susan Vega e sul suo approccio da folk singer. Vi ricordo anche che oltre al link per ascoltare tutte le puntate del podcast su Spotify, ma le trovate anche qui sul canale, c'è qui sotto in descrizione il link per acquistare il mio libro su Giu2. Vi chiedo, se volete, se vi è piaciuto questo video, di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, attivare le campanelline, lasciarmi un commento dicendo che ne pensate di quest'album o suggerendomi altri album da recensire. Vi ricordo che sono Daniele Funaro, vi ringrazio ancora una volta, Londra Fonda e io vivo vicino al fiume. Ci vediamo alla prossima.